Ovviamente la cremazione di Pulcinella è un po' l'atto conclusivo di tutti i festeggiamenti del Carnevale e come sempre il rito si celebra in piazza e siamo stasera tantissimi qui in piazza Marcovi Salutiamo le tantissime persone che sono presenti in piazza le tantissime persone che stanno seguendo in diretta social ovviamente questo appuntamento il rituale della cremazione di Pulcinella, Piazza Marconi, Carnevale di Fraschiati 2019 i tanti Pulcinella che sono presenti in piazza, l'Accademia dei Pulcinella che ha partecipato attivamente a questa giornata anche con un contest fotografico nell'ambito delle tante iniziative e dei tanti appuntamenti del Carnevale di Fraschiati organizzati dall'amministrazione comunale insieme alle associazioni che hanno aderito, ai commercianti che hanno partecipato, alla cittadinanza tutta che ha voluto seguire le varie giornate di festa le sfilate, le carri, i coltei delle vie del centro fino ad arrivare all'ultimo atto eccolo qua Pulcinella che è la figura centrale del Carnevale e del Carnevale di Fraschiati che ci salutano ogni anno così, ci lascia così con questo rito tradizionale che già illumina la piazza e la scalda salutiamo Pulcinella e il Carnevale di Fraschiati 2019